aiuto mi scalzano mi scalzano mi vogliono via dalla diretta di stampa evangelo amore dadda chi è chi è che fa la diretta papà e allora ragazzi oggi accabigliamento sul terrazzo tra padri e figli con io io eccola qui la bellissima che saluta ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao buongiorno per questa puntata di stampa evangelo con clara adinolfi joanna benedetta adinolfi con mario adinolfi e tutti sotto la protezione sempre vedete di maria vergine che accoglie gesù dalla croce una bellissima deposizione abbiamo qui dietro ecco riesco a farvela vedere bene guardate che bella questa maiolica bene andate dentro ciao ciao saluta ciao 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 baci e allora saluti a papà baci e allora eccoci qua per la puntata di oggi di stampa evangelo grazie a carla lodi a david cortoni a jacopo violi che ci scrive dalla cina a gabriele marconi a maria termini a tutti gli amici che si sono connessi con questa puntata di stampa evangelo vi dico subito perché voglio fare una premessa stampa evangelo intanto grazie sto meglio la stanchezza di ieri è passata quindi lo dico a mario nicola campanella che da bravo medico ha subito fatto la prima domanda da medico abbiamo ripreso tante energie risposto anche a tante critiche alcuni ci dicono perché fai stampa evangelo così piena di critiche io non faccio critiche io sto cercando di utilizzare questa crisi enorme devastante e molto problematica per la vita di ciascuno di noi come occasione per guardare alle lacune che abbiamo noi come popolo della famiglia che ho io come padre come marito che abbiamo come stato che abbiamo come stato in relazione agli altri stati che abbiamo nei confronti dei più sofferenti affinché la crisi su tutti i piani dal piano più meramente individuale al nostro piano comunitario al piano nazionale al piano politico e al piano internazionale possa essere occasione per colmare lacune io credo che questa sia l'unico modo di vivere sta passando nel frattempo in caccia di vivere questa straordinaria crisi in maniera produttiva quindi stampa evangelo svolge questa funzione ogni giorno noi proviamo a dare delle sottolineature su questioni che non vanno inevitabilmente per provare a colmare la lacuna allora un saluto a fabbio anno vazzi operazione operatore sanitario nella trincea del bergamasco un saluto alla bella benedetta spazzoli e un saluto a massimiliano esposito che ci scrive da un'altra frontiera complicata che la frontiera del meridione d'italia massimiliano è un ragazzo di scampia l'altro giorno l'ha rivendicato con un bellissimo scritto mi è piaciuto molto lo scritto di massimiliano esposito riguardo a scampia eppure viene dal dalla lombardia perché è stato per anni in lombardia massimiliano esposito e poi è tornato a napoli saluto saluto leonardo bisori anna ciappa marco russe guardiamo i fatti con gli occhi illuminati dalla fede dalla lettura del vangelo quotidiana anche oggi il vangelo vangelo di giovanni di oggi è un vangelo in cui gesù viene preso a oggetto di odio qual è la ragione per cui gesù è odiato la ragione per cui è odiato è la sua evidente verità il vangelo di oggi parla di un popolo che raccoglie le pietre per lapidarlo e gesù davanti a coloro che vogliono lapidarlo dice ma perché mi volete lapidare se non fosse per quello che io sono e vi dico che sono non siete in grado di giudicare le opere e davanti alle opere credere ecco questo elemento mi interroga molto e ripeto il vangelo ci da sempre quel tipo di occhio fondamentale sulle cose che noi dobbiamo fare secondo me le tra le cose che noi dobbiamo fare dobbiamo anche inevitabilmente guardare ai fatti le opere come dice gesù magari davanti ai fatti neanche davanti a quelli aprite gli occhi e allora il nostro tentativo qui a stampa evangelo è dar una lettura dei fatti e dire magari qualche idea che collegata ai fatti aiuti a colmare la lacuna per esempio per un po di giorni ho detto questa storia del numero dei decessi perché ho sottolineato il tema del numero dei decessi perché qualsiasi studio epidemiologico vuoi fare sulla situazione del coronavirus in italia non può prescindere dal numero reale dei decessi dal numero reale dei contagiati per poter quindi almeno avere il dato di letalità del virus perché se fossimo ai dati ufficiali i dati ufficiali che parlano di 14 mila morti su 120 mila decessi darebbero un indice di letalità del coronavirus in italia dell'11 per cento che è un indice di letalità pazzesco che non è verificato in nessun altro paese del mondo e dunque evidentemente noi dobbiamo concentrarci sull'individuare i numeri reali perché altrimenti non capiamo e come sapete la mia ossessione scusate è la mia ossessione da sempre ci ho scritto un libro che si intitola o capiamo o moriamo il l'elemento fondamentale è capire per esempio dopo tanti tanti giorni in cui sto martellando l'istat misiere testimoni ho martellato l'istat per tutte le puntate di stampa e vangelo lo abbiamo fatto in prima pagina sulla croce praticamente tutti i giorni in cui ho chiesto cari funzionari dell'istat che ci vuole ma che ci vuole a trovare immediatamente in collegamento con le anagrafi comunali il dato dei morti del primo trimestre 2020 per compararlo col dato dei morti del primo trimestre 2019 e darci il numero esatto dei morti per covid in italia perché basta fare una banale sottrazione a spizzichi a bocconi questi dati cominciamo ad averli e anche se mario nicola campanella ci dice purtroppo la comunità scientifica non è ancora concorde sulla definizione di morte da covid in realtà basta capire che se davanti a questa emergenza sanitaria per capirci in provincia di bergamo c'è un innalzamento della mortalità superiore al cento per cento e i morti dichiarati per covid sono 2.226 ma i morti in più rispetto al 2019 questo è un dato istat non un dato di maria rinolfi è 5.021 ci è chiaro in tutta evidenza che quei 3.000 in più nella provincia di bergamo sono morti per covid è evidentissimo non si può trovare altra ragione c'è un'epidemia colossale in quella provincia manca quel dato ripeto il dato degli ufficiali morti per covid è 2.226 il dato dei reali morti in più rispetto al 2019 è 5.021 ripeto in questo caso dato istat abbiamo certezza che in provincia di bergamo rispetto al conteggio ufficiale dei morti per covid mancano 3.000 persone è stato fatto su milano ne mancano 1.500 è stato fatto sull'odi ne mancano 700 su brescia siamo anche lì intorno a altre 2.000 3.000 persone basterebbe fare su tutto il paese questo tipo di lavoro e ci accorgeremmo immediatamente che i morti reali non sono 14.000 ma sono almeno 30.000 è ovvio è un elemento fin troppo evidente lo stiamo ripetendo da settimane non avevamo i dati istat per poterlo certificare ma era un dato che ci emergeva da alcuni piccoli segnali che arrivavano da piccoli comuni che davano i dati anagrafici sconnessi adesso cominciamo a avere i primi dati istat e con i primi dati istat in mano possiamo certamente affermare che i morti non sono 14.155 come dichiarato ufficialmente ma almeno 30.000 ora se i morti sono 30.000 e gli infettati sono 120.000 che indice di letalità abbiamo 25% è evidente che il covid che ovunque ha un indice di letalità dell'1-2% non può avere in italia un indice di letalità del 25% d'accordo quindi con ogni probabilità quelli dell'imperial college che tutti hanno sfottuto che hanno detto che in italia ci sono circa 6 milioni di contagiati non sono lontanissimi dalla verità se noi abbiamo almeno 30.000 morti d'accordo e siccome l'imperial college di londra è riconosciuto unanimemente ieri c'era uno dei massimi epidemiologi epidemiologi come si chiamano quelli che studiano le epidemie italiano che è un dottore un professore della clinica humanitas che ha detto l'imperial college è uno dei massimi esponenti uno dei massimi luoghi di ricerca mondiale ebbene l'imperial college ci ha dato questo dato e noi probabilmente con questo dato dobbiamo avere a che fare se parametriamo questa tragedia capriamo perché non possiamo andare incontro alle richieste di chi come matteo renzi ha detto gli scorsi giorni apriamo le fabbriche prima di pasqua perché sarebbe uguale a condannare a morte e 500 mila persone chi ha fatto quelle proposte matteo renzi fa una proposta da genocidio l'ho detto chiaro da genocidio non si può fare il professore che ho citato della clinica humanitas si chiama alberto mantovani grazie a gabbele marconi per avermelo ricordato e quella alberto mantovani il professore alberto mantovani ha detto un'altra cosa importante guardate che le misure di restringimento sociale sempre secondo imperial college lo studio dell'imperial college di londra hanno risparmiato all'italia 38 mila morti quindi il fatto che noi ci siamo chiusi in casa la ragione per cui io da un mese faccio queste dirette quando va proprio benissimo dal terrazzo di casa mia è per aver risparmiato all'italia una strage che aver avrebbe riguardato altre 38 mila persone se noi stando in casa con questo livello di mortalità comunque altissimo abbiamo risparmiato 38 mila persone 38 mila decessi pensate quanti ne risparmiamo stando in casa nel mese d'aprile infatti borrelli l'ho già letta questa cosa che dice borrelli di stamattina borrelli dice il primo maggio staremo ancora a casa come ovvio l'abbiamo già detto a stampa evangelo sono solo dei matti quelli che dicono che noi ad aprile ricominciamo borrelli capo della protezione civile ha detto con chiarezza il primo maggio staremo ancora a casa don natalino bonazza che il mio correttore personale mi dice epi epi me epide miologi eccolo qua è l'accento quello che conta epidemiologi don natalino però è scritto con un errore di un refuso ortografico guarda anche te allora mettiamoci in testa questo primo elemento i politici che cercano visibilità dicendo riapriamo 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 compreso il governo che non ha avuto il coraggio di prorogare le misure a tutto il mese di aprile ma ha fatto la proroga fino al 13 aprile d'accordo fa questi fanno propaganda il dato reale primo elemento che ci dobbiamo chiarire in testa e che fino a tutto aprile noi dovremo stare chiusi esiste da questo punto di vista un problema economico se ne sono accorti dice marco russa anche in germania e regno unito che devono stare tutto chiusi come hanno risposto in germania per esempio a questo problema che è ovviamente anche un problema economico ieri ho pubblicato la storia di un mio amico che si chiama michele che fa il videomaker il montatore a o il montatore video in germania a berlino e questo mio amico semplicemente da residente in berlino dando i dati di residenza a un sito che non ha crashato a a proposito tridico che diceva che c'è stato l'attacco hacker non c'è stato nessun attacco hacker tutto falso leggere giovanni bianconi oggi sul corriere della sera tutto falso se lo sono inventato l'attacco hacker semplicemente c'è stata una marea di accessi prevedibilissimi al sito dice l'articolo del corriere della sera tridico ha avuto la sindrome di onnipotenza guai l'uomo che vuole farsi dio e il sito ha cresciato a mezzanotte accordo ecco si dimette adesso tridico il mitico del movimento 5 stelle che il movimento 5 stelle voleva ministro si dimette perché sti scappati di casa normalmente rotto le scatole si è inventato addirittura l'attacco hacker che non c'è mai stato ci saranno qualcuno che paga con la responsabilità qualche volta no se dici qualcosa sei uno sciacallo ho visto esponenti del governo autorevoli sostenere la linea del lageraggio lageraggio non è mai esistito lo ripeto siamo a stampa evangelo andatevi a guardare giovanni bianconi oggi sul corriere della sera facciamo anche rassegna stampa raccontavo questa storia di michele che vive a berlino fa il videomaker fa il montatore di mestiere ha avuto un calo del fatturato da partita iva qual è ha fatto semplicemente una domanda al sito ovviamente il sito della città di berlino ha molte centinaia di migliaia se non milioni di richieste lo hanno messo in una coda virtuale per cui lui ha avuto un numero di coda la coda si è esaurita domenica domenica finalmente ha fatto la sua brava richiesta per il sussidio per semplicemente con una autodichiarazione di calo del fatturato persona fisica e non è persona fisica con partita iva non è che un'azienda non è niente immediatamente la città di berlino l'ha messo in contatto con la sua banca sul suo conto corrente ordinario dopo che domenica aveva avuto il via libera dal sito martedì sono arrivati 5 mila euro di sostegno alla sua condizione di dichiarata di dichiarato danno da coronavirus 5 mila euro immediatamente accreditati alla persona fisica michele italiano residente in germania attenti neanche tedesco italiano residente a berlino accreditati tramite il comune di berlino perché i comuni avevano avuto come in italia i soldi dallo stato centrale per poter sostenere quelli che avevano danni sulla propria attività imprenditoriale o professionale in italia siamo al 3 aprile non ci abbiamo una persona che abbia ricevuto un euro ma avete 50 politici ministri sottosegretari governatori sindaci assessori che vanno in televisione a dire stiamo lavorando per il gerundio quella tragedia che è il gerundio danilo lonardi che lavora nella comunicazione lavora in c'è solo nel lazio 800 aziende di comunicazione hanno messo in cassa integrazioni dipendenti e lo sta facendo anche mediaset oggi ho fatto un appello alla rai in particolare lo segnalo a danilo perché in prima pagina sulla rai sul sul sulla croce di oggi ho rivolto un appello vogliamo cominciare a costruire un palinsesto che sappia intercettare gli interessi degli italiani ci sono ascolti che stanno esplodendo ogni mia apparizione televisiva l'ho misurata perché sono abituato a misurare le curve d'ascolto delle mie apparizioni televisive ha visto triplicato il numero di persone che segue i miei interventi sapete perché perché li faccio a mediaset cioè l'impennata dell'ascolto sei milioni di persone in più che guardano la televisione generalista è per più del 50 per cento intercettata da mediaset per un altro importante 25 per cento dalla sette e dalle reti satellitari mentre la rai è cresciuta pochissimo la metà di mediaset ma te credo perché non sono riusciti a costruire un cavolo di palinsesto anche qui è una lacuna costruiamo un palinsesto di intrattenimento oggi ho citato nell'editorialino la proposta di walter boero dice facciamo una roba almeno un po di tv pedagogica e mi piace gabriella vangelisti che dice un palinsesto per i nostri bambini facciamo qualcosa davvero intanto leggo di flavia lanci mio suocero appena portato via dal 118 mi spiace molto una preghiera per il suocero di flavia lanci appena portato via dal 118 per covid e rispetto ripeto dobbiamo cercare di costruire ognuno sui propri terreni delle condizioni per cui io mi sforzo a fare stampa evangelo tutti i giorni qualche giorno avete visto che ero particolarmente affaticato per fare stampa evangelo ma capisco che quest'ora di trasmissione è un modo per stare insieme per fare comunità vedete in questo momento 230 persone collegate contemporaneamente 231 in questo momento in questo istante il che vuol dire che alla fine saranno migliaia nell'intera ora di trasmissione di stampa evangelo noi quando facciamo stampa evangelo nel periodo ordinario non ce l'abbiamo mai la tripla cifra fissa o addirittura 226 227 230 collegati contemporaneamente cosa vuol dire che c'è un innalzamento degli ascolti perché siamo tutti a casa non perché sono particolarmente bravo io e lo stesso avviene sulla televisione ma come dice danilo leonardi purtroppo in rai ci sono gli stessi scappati di casa che stanno al governo ed è un problema serio però ricordatevi di michele michele ha già sul conto da martedì da italiano residente in germania 5.000 euro che vanno a colmare la difficoltà e il disagio che ha avuto per via del coronavirus e vi ricordo che la germania ha meno di mille morti davanti ai 14.155 morti che abbiamo noi in italia ufficiali dichiarati quando in realtà sono 30.000 sarareo conferma come emiliano velasco in germania sono molto organizzati cittadini hanno un forte senso civico ed è un fatto danilo leonardi ha avanzato delle proposte io ho letto proprio un testo di danilo lonardi che mi piaceva mi piaceva molto perché era un testo di proposta per il palinsesto molto pedagogico per rai 3 complimenti a danilo lonardi che almeno ha messo per iscritto una proposta di palinsesto intelligente cioè ognuno di noi deve cercare di colmare la lacuna è impossibile ragazzi che al 3 aprile noi abbiamo ancora questa tragedia delle mascherine io ho letto oggi facciamo ancora un po' di rassegna stampa che 600 aziende italiane stanno producendo mascherine ma l'autorizzazione l'hanno data solo a 10 e poi a una di queste 10 che ha già prodotto 4 milioni di mascherine l'istituto superiore di sanità non dà il timbro per la distribuzione di queste mascherine nel frattempo noi stiamo distribuendo all'ordine dei medici delle mascherine acquistate a carissimo prezzo dallo sri lanka che l'ordine dei medici ha giudicato essere assolutamente inadeguate e anche la protezione civile ha detto che è monnezza proprio così monnezza buttato tuttavia strapagata tutta roba strapagata ragazzi annarita michelli dice avremo ancora scappati di casa a governarci fino a quando la domanda che io faccio a chi segue stampa e vangelo è ricordatevene perché di tutto questo bisognerà serbare memoria e anche vi prego espandere memoria del fatto che il popolo della famiglia ha elaborato proposte ha lanciato l'allarme molto prima degli altri ha dato soluzioni che se fossero state implementate avrebbero salvato la vita alle persone ancora rassegna stampa oggi intervista di pregliasco il virologo pregliasco al corriere della sera dice il governo centrale ha avuto 12 giorni di ritardo sulla lombardia e quei 12 giorni di ritardo sulla lombardia hanno causato la tragedia lombarda lo dice pregliasco è che è un virologo quindi virologi come sapete hanno la patente per poter parlare noi no io faccio semplicemente l'eco 12 giorni di strage perché quando la domanda è perché l'italia ha tutti questi morti e la germania ce ne ha 992 la risposta che ci stiamo dando noi è che la germania è brutta cattiva e nasconde i morti la risposta che vi do io è che la nostra totale disorganizzazione sulle mascherine 10.000 operatori sanitari infetti 10.000 operatori sanitari infetti perché non avevano evidentemente adeguati strumenti di protezione se addirittura 63 medici morti quindi il piano dell'organizzazione nel non aver distribuito adeguatamente gli strumenti protettivi nell'aver preso le decisioni in ritardo perché a fine febbraio stavamo facendo gli aperitivi con singaretti ed abbiamo preso le decisioni ripeto lo dice pregliasco oggi su quella sera con 12 giorni di ritardo ecco quello che è accaduto ecco la strage ecco la ragione quando in parlamento conte dichiara abbiamo lavorato con fermezza e speditezza dichiara il falso e io spero che quando ci sarà poi da votare perché poi in autunno andremo a votare per le amministrative e poi via via entro i prossimi due anni e mezzo si andrà comunque a fare le elezioni politiche prossime si ricordi degli scappati di casa e di chi ha governato in maniera così tragica con altre emergenze che sono sullo sfondo lo stiamo indicando da alcuni giorni le emergenze delle residenze sanitarie per anziani e la rsa e anche per le residenze per disabili sono oltre 6.000 in Italia hanno 300.000 ospiti 300.000 persone dentro che stanno morendo come mosche e non vengono conteggiati nei morti covid perché non si fa la diagnosi non si fa il tampone emergenza colossale altra emergenza emergenza carceri c'è stato il primo morto per covid in carcere un secondo detenuto lotta tra la vita e la morte e tra poco lì succederà un altro caos senza precedenti già abbiamo vissuto la rivolta di 27 carceri con 13 morti ma come al solito abbiamo fatto finta di niente con scene con i deputati detenuti sui detti che manco in venezuela le so mai viste ma le abbiamo noi ma le abbiamo noi adesso cominciano a morire i detenuti e vedrete che succede anche in queste due realtà le rsa e le carceri noi stiamo parlando di questo lo sapete da una settimana che sottolineo il dato delle rsa saluto margherita ruffino anche per dirle che i suoi genitori il ricordo che sto costruendo la spoon river dei nostri affetti di quelli che non ci sono più sono pubblicati con loro volto su sul mio profilo instagram trovate anche la mamma di anna ciappa trovate la mamma di piero chiappano trovate mio papà trovate paolo che è morto di coronavirus qualche giorno fa a treviso e insomma abbiamo cominciato a costruire questa spoon river dei nostri affetti ivan stoppa sottolinea un sondaggio che da il pd al 22 6 sai nella fase di emergenza si tende a dare fiducia ai partiti di governo visto che per esempio in germania la cdu e la spd che sono i due partiti che stanno nel governo con la grosse coalizione stanno crescendo moltissimo nei consensi io chiedo di fare poi l'esame alla fine io chiedo l'esame alla fine si è il papà di anna ciappa papà mario non la mamma si è preciso ci sarà poi una valutazione politica delle cose che sono accadute e davanti alla valutazione politica noi il popolo della famiglia proporremo la nostra alternativa politica e quello che abbiamo realmente fatto in questa stagione per provare a direzionare no con le nostre parole d'ordine che sono state lockdown che sono state helicopter money che sono state quarantena obbligatoria che sono state attenzione ai più deboli a partire dagli over 65 che sono state l'immissione del reddito di speranza immediatamente sui conti correnti dei capi famiglia insomma abbiamo costruito quella serie di pacchetti che se fossero stati applicati già avrebbero dato una risposta completamente diversa e anche limitato significativamente il numero dei morti in questo frangente così difficoltoso come abbiamo proposto il tampone a raggera se non a tappeto secondo il modello coreano che poi era il modello zaia insomma credo che abbiamo detto delle cose che poi sono diventate argomento di dibattito il problema è che qui si dibatte sempre se fa tanto gerundio stiamo lavorando stiamo facendo stiamo immettendo stiamo costruendo stiamo riparando il sito che è cresciato che è cresciato perché sono arrivati gli hacker si raccontano un sacco di cazzate ma una marea di cazzate ma poi non si fa niente oggi è 3 aprile ragazzi e ripeto giorno 3 aprile non c'è un italiano che ha avuto un euro per i danni da coronavirus che sono un'emergenza proclamata dal governo il 31 gennaio e non c'è un italiano che ha ottenuto un euro quando invece lo ripeto l'esperienza del mio amico michele in germania 5 mila euro già ricevuti martedì e vi dico la verità perché me l'hanno detto tutta questa comunità di italiani che sono in germania che molti sono appunto video artisti video makers sono stupefatti perché 5 mila euro sono tanti soldi che non si sarebbero mai aspettati e che vanno più che a riparare diciamo così i danni da fatturato che loro hanno ottenuto è tanta 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 roba tant'è che se tu hai una partita iva e un dipendente gli euro diventano 9 mila per 3 cioè 27 mila e se c'hai più di 5 dipendenti diventano 45 mila e allora invece di fare tante chiacchiere bisognava andare immediatamente all'operazione senza dire neanche niente e immettere subito i denari tant'è che adesso michele non vuole mai muoversi dalla germania perché capisce che la germania risponde ai suoi bisogni persino oltre le sue aspettative persino oltre le sue aspettative Anna Ciappa ricorda che un anno fa raccoglievamo le ultime firme per il reddito di maternità a Montecitorio speriamo Anna che alla fine del 2020 guardando magari un piccolo innalzamento dei dati di nascite che comunque non servirà evidentemente a colmare il grandissimo innalzamento del numero dei morti l'ho detto dall'inizio conteremo alla fine del 2020 150 mila morti e vi ricordo che i morti civili 5 anni di seconda guerra mondiale sono stati 150 mila quindi pensate quanto è importante questa cifra sapete perché non fa così impressione perché non siamo ancora tutti impazziti dal dolore perché stanno morendo uno su tre gli over 90 34 per cento è di over 90 dei morti e la consideriamo come dire una questione quasi naturale complessivamente il 94 per cento è over 70 94 per cento dei morti ci stiamo abituando alla morte degli anziani indotta dalle nostre incapacità una forma triste di eutanasia di massa molto molto pericolosa dove uscire proprio nel mio libro sul tema dell'eutanasia l'ho fermato perché questa esperienza mi fa rimpastare tutto il materiale e uscirà comunque un mio libro dopo questa esperienza spero di riuscire a portarlo in giro per farvelo conoscere il più possibile si chiamerà dimmi che non vuoi morire e sarà l'opera che concluderà la trilogia aperta con voglio la mamma come sapete dopo voglio la mamma è venuto o capiamo moriamo e la terza opera della trilogia si intitolerà dimmi che non vuoi morire e chiuderà appunto la trilogia dei miei libri pro life anna ciappa ha sentito ieri la bonetti sulla famiglia mi veniva da piangere di pure che l'hai sentita con il presidente del forum delle famiglie della cei perché se no non si capisce sulla croce anche mirco de carli formula le sue proposte e vi consiglio di leggere anche gli articoli di mirco oggi l'editoriale lo firma lucianella presta proprio sul tema della difesa della vita mi è piaciuto molto il testo di lucianella l'abbiamo scelto oggi come editoriale del quotidiano la croce per la difesa del concetto della vita umana ed è l'editoriale in prima pagina oggi sul numero della croce quindi vi consiglio la lettura del numero di oggi anche perché trovate l'editoriale di lucianella presta il mio appello alla rai sotto forma di editorialino trovate le proposte di mirco de carli e tanto altro materiale vedrete veramente tanta 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 roba che può essere credo di vostro interesse c'è anche un articolo di andrea brenna ci sono insomma tanti materiali che potete utilizzare ricordo che la croce è un quotidiano per abbonati www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora una lettura che vi fa anche passare qualche ora perché è bello denso diciamo come diciamo io e giovanni in questi giorni è un tetris per comporre tutti gli articoli ci dobbiamo inventare un tetris di tanto materiale e spero spero davvero che sia di vostro interesse se vi abbonate date anche un sostegno al nostro lavoro quotidiano perché non abbiamo mai mollato tutti i giorni oltre a fare stampa evangelo dal lunedì alla domenica facciamo anche i numeri settimanali del quotidiano la croce che esce tutti i giorni dal martedì al sabato quindi è un modo per tenervi in connessione con le elaborazioni che poi fanno molte persone che partecipano con i commenti a stampa evangelo angela maria provenzale dice niente di nuovo per la famiglia il ministro della famiglia bonetti non ha dato niente di nuovo sei figli prenderemo un assegno ridotto per un figlio sempre che sia realizzato il nulla cosmico ricordatevelo sempre pd movimento 5 stelle italia viva perché la bonetti è di italia viva di matteo renzi hanno fatto il nulla cosmico sarà parla dello stanziamento di 550 miliardi da parte della banca tedesca lucianella presta sottolinea al suo editoriale che è veramente molto buono e oggi infatti è finito in prima pagina sulla croce vincenzo lelli se aspettate il battito il vaccino vi viene una barba lunga un chilometro però oggi c'è sempre su quella sera facciamo un po di rassegna stampa una articolo sull'efficacia della vegan stavolta propugnata proprio dal padrone di fujifilm che produce il farmaco giapponese avigan che è molto interessante io dico dall'inizio non aspettatevi il vaccino perché il vaccino è come quello dell'aiz non arriverà mai cerchiamo la cura perché serve un farmaco che riesca a combattere questo virus e su questo credo che potrebbe esserci qualche buona sorpresa alessandro cocco è già detto che saranno tutti promossi e che litigazione all'ignoranza alessandro st'altra cosa che vanno dai pazzi ne parlavo proprio con silvia mia moglie pochi minuti prima di iniziare ma puoi dare un annuncio di tutti i promossi all'esame di maturità tutti promossi in tutte le classi con l'annuncio dato a ragione alessandro cocco due mesi prima chi è ministro dell'istruzione la grillina azzolina lasciamo perdere va lasciamo veramente bene chi è il ministro sport che ha detto che a maggio bisogna ricominciare con i campionati il grillino spadafora è una tragedia chi è il presidente dell'inps che ha detto che erano stati gli hacker tutto falso si dovrebbe dimettere perché ha mentito agli italiani tritico movimento 5 stelle doveva fare il ministro del lavoro del governo di maio presentato alle elezioni che il presidente del consiglio giuseppe conte grillino doveva fare il ministro della pubblica della funzione pubblica nel governo presentato di da di maio alle elezioni del 4 marzo ragazzi col governo e gli scappati di casa ma dove vogliamo andare ricordiamoci queste lacune e scegliamo bene la prossima volta perché c'ha da ragione danino leonardi il virus ce l'hanno nel cervello oggi ho visto un imbarazzante su rai 3 ad agorà visto che danilo lavora rai 3 intervista al presidente della camera roberto fico imbarazzante carla lodi parla di dati economici che certificano un calo del fatturato del 15 20 per cento e danno 600 euro ad un autonomo per questo proposto oggi la differenza con la vicenda di michele in germania che prende 5 mila euro semplicemente dicendo ho avuto un calo del fatturato non 600 5 mila e il sito funziona siccome sovraccarico gli danno un numero di coda virtuale la coda viene smaltita in alcuni giorni dopo alcuni giorni due giorni di rapporto con la banca 5 mila euro sul conto corrente semplicemente il merito qual è quello di essere un italiano residente a berlino e non residente a roma napoli o a milano questa è la sua fortuna di risiedere a berlino di risiedere a berlino che dobbiamo dire un saluto a rossano giorello un saluto a domenica gallo cosa ne pensi delle dichiarazioni ieri di ursula von der lion sugli interventi economici per l'italia penso che ha fatto almeno lo sforzo di scusarsi è già stata una buona cosa e poi ha messo 100 miliardi sulla disoccupazione vediamo di gestirli bene io ho scritto in un editorialino di qualche giorno fa sapendo di scandalizzare qualche benpensante del popolo la famiglia ma magari viene la troica a gestirli sti soldi ma magari viene la troica perché io sono terrorizzato della modalità di gestione dei soldi europei tra cui questi primi 100 miliardi messi per la disoccupazione perché so che michele da italiano a berlino prende 5.000 e l'italiano che sta in italia deve crashare su un sito dell'inps gestito da un presidente idiota che ha la sindrome dell'onnipotenza lo ripeto non è una definizione mia è una definizione che trovate oggi sul Corriere della sera poi sbatte sul muro dei fatti come al solito e non è che si dimette no si inventa che sono stati gli hacker e mamma mia ragazzi che guaio quindi prendiamoci le scuse prendiamoci 100 miliardi di euro di questo pacchetto che si chiama sure o sure se preferite certezze insomma da dare almeno ai disoccupati è un primo pacchetto che serve a finanziare la cassa integrazione in deroga per moltissime aziende ricordate che potete andare in cassa integrazione anche se siete unico dipendente di un'azienda quindi anche piccola ricordate potete fare la domanda di cig nestore dice la troica ha lasciato morire bambini gravi la troica è cattiva e i governanti italiani sono buoni i governanti italiani facendo 12 giorni di ritardo hanno fatto morire decine di migliaia di persone vi dico la verità io testi governanti italiani mi fido molto 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 poco elena de piro dice ci dici due parole sull'ungheria mi hanno fatto molti questa domanda io non approvo lo dico perché sono stato molto vicino alle politiche di orban sul tema della famiglia non approvo l'esautorazione totale del ruolo del parlamento è vero che anche in italia conte ha governato con i dpcm che sono dei vedi del presidente del consiglio che non passano manco dal consiglio dei ministri quindi ha governato in maniera autocratica però è vero anche che ora i decreti chiamiamoli cura italia sono decreti che passano al parlamento a me non piace l'idea che si salti la dimensione parlamentare è molto pericoloso come precedente e ovviamente andrà stigmatizzato il parlamento poi ogni tanto dovrebbe pure lavorare e magari dare qualche segno in più di esistenza perché altrimenti diventa tutto semplicemente formale mario dice per tutta l'europa certo 100 miliardi sono per tutta l'europa però una buona parte dei disoccupati sono nostri perché abbiamo un tasso di disoccupazione molto alta quindi andiamoci a prendere intanto questi soldi portiamoli a casa e facciamoli arrivare nelle tasche dei disoccupati italiani ragazzi io lo sottolineo è la prima frase della sintesi che ho fatto di questa diretta oggi è 3 aprile e a oggi 3 aprile non c'è stato un euro dato a un italiano per pararsi le chiappe dalla crisi del coronavirus non c'è stato un euro dato a un italiano e ci sono decine di milioni di italiani completamente fermi che non guadagnano un euro e non sanno cosa mettere sul tavolo per le proprie famiglie poi ci salviamo perché abbiamo 17 milioni di pensionati ci abbiamo i lavoratori in nero le mafie l'andranghete le camorre ci abbiamo 4 milioni di dipendenti pubblici e parastatali statali regionali comunali degli enti pubblici eccetera eccetera ma esistono poi una platea vastissima di lavoratori dipendenti che non vanno più a lavorare non verranno più pagati di persone che avevano lavori instabili di dipendenti con contratti a termine che non sono stati rinnovati di lavoratori autonomi 5 milioni di 3,7 milioni che hanno lavori completamente a nero non prendono proprio niente che non sanno come mettere insieme la pranzo con la cena davanti a queste la risposta al 3 aprile lo stato italiano è neanche un euro ancora dato a nessuno tante chiacchiere tante conferenze stampa tante stiamo facendo stiamo lavorando stiamo vedendo stiamo guardando stiamo dicendo ma niente ricordate neanche un euro come dice don carlo cusso è colpa del gerundio a scuola non hanno imparato l'indicativo presente anna ciappa dice di non mi fido su questi soldi bisogna monitorare perché ricordatevi l'ultima tragedia 1980 Irpinia arrivarono valanghe di soldi valanghe di soldi anche europei finirono prevalentemente a ingrossare l'economia sommersa della camorra e della nuova camorra organizzata di raffaele cutolo e poi innescando tutte le guerre di camorra che di lì in poi sono nate cioè lo spaccio di stupefacenti e la trascinamento di napoli verso l'abisso ovviamente non invoco la troica lo dico l'ho descritta come provocazione ho detto noi stiamo facendoci governare comunque da persone irresponsabili la troica non arriverà non governerà la troica in italia non vorrei alla fine di questo percorso dire un purtroppo non vorrei dire un purtroppo perché se invece della troica governano a solina sto ministro del tesoro che sembrano svalvolato giuseppe conte spadafora di maio agli esteri sta genialità mi mette assolutamente in grave preoccupazione nesso del bocci dice di chi è la colpa di tutto questo bisognerebbe fare una cronistoria dei governi da 26 anni a questa parte ragazzi la responsabilità è chi ti governa questa emergenza i 12 giorni di ritardo non l'ha fatti il governo berlusconi il governo proti i 12 giorni di ritardo per intervenire sulla lombardia l'ha fatti questo governo qua e ha causato intervista di preliasco oggi su quella sera migliaia di morti è un dato di fatto anche Ivan Stoppa dice senza andare lontano già con il terremoto dell'Aquila i soldi sono arrivati dall'Europa e poi sono spariti come neve al sole fatevelo dire evidentemente da chi ha più di un'esperienza da questo punto di vista Emiliano Velasco cita la situazione di Amatrice le zone colpite dall'inefficienza italiana mettiamocene chiara in testa questa cosa questa grande crisi serve a parlare anche delle nostre enormi inefficienze l'inefficienza sulle mascherine l'inefficienza sull'approvvigionamento l'inefficienza burocratica l'inefficienza nel mondo dell'istruzione che sta dicendo tutti i promossi due mesi prima l'inefficienza nella gestione degli eventi sportivi con l'Atalanta Valencia che è stato un propagatore una bomba che ha fatto propagare il virus l'inefficienza dei comitati scientifici dei vari Walter Ricciardi che sono stati affiancati ai vari Roberto Speranza creando danni l'inefficienza degli spot con Michela Mitabella che diceva non era affatto facile il contagio l'inefficienza nella gestione economica l'inefficienza nella consegna di strumenti di sopravvivenza per i cittadini italiani che altrove arrivano ai cittadini italiani residenti all'estero cittadini italiani residenti in Italia no mettiamo in conto tutto questo perché se no vogliamo sempre raccontare un'Europa cattiva che se la prende con l'Italia brava buona ed efficiente ma purtroppo la narrazione effettiva dei fatti non è questa saluto Andrea Brenna che vedo sta anche commentando la diretta saluto Sari Catarina Rippi puntate anche sui corsi di aggiornamento per giovani e meno giovani hai ragione un altro elemento di cui potremmo occuparci nelle prossime puntate di Stampevangelo Leonardo Bisori se la Germania non si fida dell'Italia ci sarà un motivo e noi dobbiamo fare tutto invece per selezionare classe dirigente credibile e a quel punto andare sul tavolo della Germania, dell'Olanda, del nord Europa e metterli in mora ma mettendoli in mora ci riusciremo solo quando avremo una classe dirigente credibile per questo noi ci proponiamo come classe dirigente di questo paese spero che il popolo e la famiglia capisca con questo la missione a cui è chiamato in questo momento così difficile per accrescere anche il numero di consensi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali è quello che dobbiamo fare è quella la ragione anche per cui è bene fare un like a questa diretta se le cose che abbiamo detto le considerate sensate prendere il link alla diretta e mandarlo sui vostri profili con la condivisione c'è scritto condividi fai il tasto condividi se tu condividi la diretta sul tuo profilo in molti più di adesso la potranno vedere incroceranno il fatto che la stai vedendo prenderanno magari alcune delle nostre idee e con questo credo davvero che si potrà costruire una consapevolezza più ampia anche al di là della nostra cerchia poi prendete il link mandatelo almeno nella chat operativa del pdf perché non lo sanno neanche lì che sono in diretta in questo momento quindi è invece carino che la chat operativa del pdf sia informato che stampa il vangelo non ha mollato neanche oggi mauro rotellini dice cosa pensi dell'emendamento pd sull'esonero della responsabilità civile ed erariale se leggo emendamento pd già mi fido poco marie clare o c'era io se la prendono con il sindaco cateno del luga sì certo quella quella denuncia della lamorgese contro cateno del luga è veramente insopportabile hai ragione marie clare saluto anche anna rita michelli sarebbe ora che si espandesse un altro contagio tranno gli italiani quello dell'autocritica dell'onestà intellettuale davvero bisognerebbe leggete la croce di oggi lo ripeto l'editoriale lucianella presta le proposte di mirco de carli pezzi di andrea brenna l'editorialino sul sui palinsesti rai che credo sia un'idea che il pdf dovrebbe fare spandere tratta da una riflessione di walter boero che è citato infatti nell'editorialino insomma tutti insieme ci stiamo dando una mano a dare come dire un racconto una narrazione delle cose che avvengono credo in qualche modo che abbia a che fare col senso comune col buon senso col senso del padre di famiglia il don carlo gusto rinnova la sua benedizione per tutti noi grazie a don carlo noi ci troviamo anche domani a stampa evangelo alle ore 9 55 minuto più minuto meno invece con la domenica ricordate che invece è sempre vangelo lo facciamo dopo l'angelus del papa alle 12 e 25 per di appassionati del genere alle 11 40 farò anche un'intervista un po più ludica a radio bianconera la radio che trasmette dagli uffici di tutto sport quella proprio colorata di juventinismo negli uffici tutto sport so che ci lavora anche la figlia di mario nicola campanella quindi comunque siamo più o meno sempre in famiglia dalle 11 e 40 se volete una ventina di minuti li faccio con con radio bianconera tanto per dire che ogni tanto proviamo anche a svagarci un saluto anche a lauretta gian felici che parla di un avvocato di corridonia che ha denunciato conte gian domenico da dabbo e ora che noi italiani smettiamo di criticare la pagliuzza negli occhi degli altri e ci togliamo la trave saluto tiziano basso cosa di tanto prezioso l'olanda che fa la voce così grossa ai conti in ordine e l'amicizia con la germania fondamentalmente ma il rapporto fondamentale è quello con la germania quella che dai 5000 euro a michele italiano residente a berlino e noi è lì che dobbiamo andare a fare il confronto serio ma con una classe dirigente seria un saluto a anna ciappa juventina di roma come me un abbraccio cara anna forza juve sempre scrive ripeto se volete ci troviamo alle 11 e 40 a radio bianconera così per scherzare un po e per giocare un po anche se parlerò anche lì di cose inevitabilmente abbastanza serie come quelle che riguardano il calcio e la ripresa dell'attività sportiva agonistica saluto marco ronchini grazie per il lavoro che fai anche tu caro marco saluto fabbio salvucci giovanna nespoli e vi do appuntamento lo ripeto a domani stampa e vangelo ore 9 e 55 minuto più minuto meno ciao anche la carissima diana barigelletti ai suoi tanti figli è il figlio che le più caro vincenzo lelli un abbraccio flaviano fortunato un abbraccio e forza pdf dice flaviano che nessuno resti solo il nostro primissimo slogan ai tempi della crisi non per caso ciao a domenico gallo a monica sismondini vincenzo lelli elena bentinia c'è anche elena mi fa molto piacere marco rus ci troviamo tutti domani su stampa e vangelo ore 9 55 minuto più minuto meno